Buonasera e ora faccio una prova challenge, vi farò delle imitazioni. Allora, partiamo da Rames, Gold Rames. Questa cucina fa cagare! Allora, e ora partiamo da un altro. Evo sulla mazzotti, più bella cosa non c'è, unica come te, più bella cosa, come c'è, mio cugino Leo. Uè, ragà, sono io il più bello di tutti. E altro, il calibro, le papele! Una persona cellulare, pronto chi è? Arrivo subito! Max Pezzali è del mio secondo tempo! Stop! Ce l'ho fatta! Ciao! 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 Ciao!